Dopo Teramo e Pescara domani inizieranno le vaccinazioni per gli ultraottantenni anche all'Aquila e Chieti. A confermarlo ai microfoni di rete 8 è il dottore Enrico Gianzante, responsabile del servizio igiene, epidemiologia e sanità pubblica dell'ASL. Un passaggio molto atteso, anche se Gianzante afferma che molti ultraottantenni erano già stati vaccinati nelle RSA e si è molto avanti in tal senso rispetto ad altri territori. Abbiamo vaccinato un gran numero di persone, sono quasi tutti ultraottantenni, che si trovano nelle RSA e nelle case di riposo. Per quanto riguarda l'Aquila siamo praticamente quasi al completo e stiamo molto avanti anche nelle zone della Marsica e di Sulmona. Per quanto riguarda invece gli ultraottantenni che possono spostarsi, muoversi, inizieremo domani presso il nostro ufficio vaccinazioni bambini, chiaramente nel pomeriggio, per poi spostarci in tempi brevissimi in quella che è la sede per quanto riguarda l'Aquila di Via Ficara. Secondo Gianzante, insomma, si sta andando molto velocemente, ma l'organizzazione è complessa e si deve sempre considerare che l'approvvigionamento non dipende dalla ASL, che invece vorrebbe avere sempre più vaccini per farli a più persone possibili. Siamo in attesa anche di tutto il personale che ci deve essere fornito dal bando della protezione civile, che credo ci verrà messo a disposizione già da lunedì. Siamo pronti a vaccinare di più e bisogna avere solo un po' di pazienza, in quanto nel breve periodo aumenteremo di molto il numero delle persone vaccinate. In merito poi alla questione varianti, che non è una novità perché anche questo, come tutti i virus, muta, l'imperativo è correre a vaccinare tutti per impedire al virus di arrivare prima. Sulla questione di una presunta variante inglese a pizzoli, il medico dice che al momento c'è solo un sospetto da confermare con le analisi dello zoo profilattico. Quello che è stato riscontrato è la delezione del GNS. La delezione del GNS indica un sospetto di variante. Questa deve essere confermata da una sequenza genomica, che viene effettuata chiaramente dall'Istituto Zoo Profilattico di Teramo. Quindi noi ci comportiamo comunque come se ci trovassimo di fronte ad una variante, ma in realtà la conferma definitiva ancora non c'è. Più persone si vaccineranno, meno ci sarà la possibilità di contagi e di contatti. Da quello che sappiamo i vaccini che ci sono stati forniti proteggono anche contro la variante, sicuramente quella inglese e quella sudafricana. Ma chiaramente se noi riusciremo a contenere la diffusione del virus non avremo più problemi nemmeno per varianti successive. Quindi ci auguriamo di poter incrementare il più possibile.